Benvenuti al Quirinale. Un cordiale saluto a tutti. Un particolare ringraziamento al Presidente Pavlopoulos per il suo messaggio, per il quale lo ringrazio molto. Il suo messaggio, oltre a sottolineare la grande amicizia e vicinanza sotto ogni profilo tra Grecia e Italia, ci ha ricordato che l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico costituisce un ottimo esempio, così ascritto, di collaborazione. Ed è la collaborazione assicurata attraverso l'opera, il confronto, l'approfondimento, lo studio di tanti giuristi di diritto pubblico europei. che ha una storia piuttosto lunga. Nel 1989 è nato il gruppo europeo di diritto pubblico, dall'intuizione di alcuni grandi maestri, tra il quale appunto Massimo Severo Giannini, che si è sviluppata con un grande lavoro comune, con il contributo di tanti. Ricordo una figura da tutti apprezzata, Luisa Ortega. È un lavoro intenso e continua a svolgersi costantemente in Grecia. Dopo pochi anni, nel 1995, è nato il Centro Europeo di Diritto Pubblico e nel 2004 il Trattato di cui si è parlato questa sera, che ha istituito l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico. È quindi una storia di collaborazione di successo. Uno dei risultati è appunto questa scuola. Come il professor Chiti ci ha ricordato poco, anzi, ha una caratteristica peculiare, quella di curricula comuni, come ha detto, curricula omogenei, che consentono così la formazione di giovani giuristi che possono svolgere il loro impegno nei singoli Stati e negli organismi sovranazionali o internazionali, con una preparazione adeguata ad ogni condizione. e come ha detto il professor Cassese, poco anzi, è una condizione che nasce dalla insufficienza dei limiti dei diritti nazionali, anzi nazionalistici, della concezione nazionalistica del diritto e dal superamento, dal venir meno, della convinzione dell'autosufficienza di questi diritti, dalla nascita di quello che il professor Cassese ha chiamato lo gius commune europeum, forse forzando un po', si potrebbe dire storicamente che è un ritorno dello gius commune, che poc'anzi, questo diritto comune europeo che poc'anzi il professor Amato, il presidente Amato ha ricordato con tanta precisione. E' questo formare giuristi in questa dimensione, con queste conoscenze, con questa condizione davvero lavoro prezioso, per il quale auguro e sono certo che questo sarà l'esito, un grande successo alla scuola. Il professor Fogaitis, poco anzi, ci ha ricordato la frase che campeggia in quel mosaico, e che i giovani di Sparta indirizzavano i più anziani, se non ricordo male, e noi saremo migliori di voi. Devo dire che pensando alle condizioni d'Europa, ai suoi sbandamenti in questo periodo, c'è da sperare che sia davvero così e c'è da contare che sia davvero così. Forse non è sempre vero, forse non siamo stati all'altezza della generazione che ha pensato e avviato l'integrazione europea. Ma sono convinto che i giovani europei di oggi, che prenderanno nelle loro mani, e stanno già prendendo nelle loro mani le sorti del nostro continente e dell'Unione, saranno migliori di quella precedente. E questo è un augurio che faccio con molta forza alla scuola. Ve ne bisogno e questo comportamento migliore, questo essere migliore, si realizzerà in realtà attraverso l'acquisizione di una mensalità da cittadini europei, quella che appunto questa scuola vuole realizzare. Auguri. Grazie a tutti.